Tutte le volte che avete a che fare con un dispositivo, di solito avete un monitor, un mouse o un dito, una bella interfaccia grafica e la possibilità di interagire in modi facili, immediati e colorati. Ma da tempo in memore, resiste e sopravvive, imperterrita, una modalità di accesso a quasi ogni dispositivo che funziona sempre e che non si incarta quasi mai. Nascosta negli angoli più polverosi, complessa da usare, anche un po' più macchinosa, alla quale collegarsi. La connessione seriale resta immortale, a volte persino indispensabile. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Un po' di basi per non perderci i pezzi per la strada. Da che mondo è mondo, ogni sistema operativo, dietro all'interfaccia grafica, bella e di facile utilizzo, ha un'interfaccia che è una riga di comando con un prompt. Si scrivono comandi, dai più semplici ai più complessi, e questi ottengono un risultato sul sistema. Ad essere pignoli, dovrei dire che le interfacce grafiche non sono altro che un modo facilitato per lanciare comandi su un prompt che noi non vediamo. Faccio un esempio banale. Nel prompt dei comandi di Windows, ereditato da DOS, per avere la lista dei file di una cartella, si usa il comando dir e si ottiene a schermo la lista dei file. Con la grafica si apre, esplora delle risorse, si apre la cartella e si vedono i file. È come se, aprendo la finestra di una certa cartella, venisse eseguito il comando dir e l'output venisse formattato e messo all'interno della finestra di esplora risorse. Il prompt dei comandi vive e lavora insieme a noi. Tutti i sistemi operativi hanno il prompt dei comandi, anche chiamato Shell. Windows, Linux, Mac OS, i sistemi di ogni dispositivo di rete gestito nel mondo e tutto quello che all'interno ha un sistema operativo. Nel 90% sarà di derivazione Linux e avrà quindi una Shell Linux. Avere accesso alla Shell con le giuste credenziali dà accesso al sistema con il privilegio massimo nella maggior parte dei casi. Se usate un calcolatore con un sistema operativo, almeno un minimo dovreste imparare a usare la sua riga dei dei comandi. Per accedere alla Shell si usa il monitor del dispositivo su cui si è, oppure per esempio ci si collega solitamente in SSH che è un protocollo di comunicazione che lavora su TCP sulla porta 22 ed è cartografato. I vecchi sistemi usano il telnet che assolve alla stessa funzione, lavora sulla porta 23 ed è in chiaro quindi tutto quello che scrivete passa anche le password. Alla Shell però se siamo davanti al dispositivo possiamo accedere in un modo ancora diverso. Ad alcuni potrebbe sembrare arcaico ma è ancora in uso e funziona molto bene con la connessione seriale o anche detta connessione console che non è la PlayStation. Tutti i dispositivi elettronici hanno una connessione console o seriale. Le schede madri di ogni computer ce l'ha il Raspberry Pi, Arduino, le schede SP, le loro sorelle cugine di ogni genere e specie, tutti i dispositivi di rete come switch e router, tutti ce l'hanno. In alcuni casi sono facilmente raggiungibili, in altri meno o completamente nascoste. In altri casi si possono riattivare con qualche magheggio o con qualche saldatura. Se avete il cavo giusto con il connettore giusto, lato dispositivo e lato computer potete accedere senza troppa difficoltà. Se l'accesso ovviamente non è stato fisicamente bloccato dal produttore. Tempo fa il cavo seriale era quello a 9 pin a forma di trapezio sia sul dispositivo che sul computer. Adesso di solito la console è un cavo RRG45, tipo i cavi di rete, lato dispositivo, e USB sul computer. In certi casi è USB da entrambe le parti. A volte i pin hanno connessioni proprietarie e serve il cavetto che arriva con il dispositivo e nessun altro, ma direi che non a volte, mi sa, quasi sempre. Tenete con cura i cavi seriali che vi arrivano con i dispositivi. A livello hardware la connessione seriale avviene attraverso un singolo filo. In realtà se ne usano di più, ma il traffico dati avviene su un solo filo, dove passano in fila, quindi serialmente, tutti i bit che devono essere trasmessi. Si definiscono alcuni parametri, come la velocità di trasmissione in caratteri al secondo, la gestione degli errori e poco altro. Ed ecco che bit per bit sulla seriale arrivano tutti i caratteri che il dispositivo vuole trasmettere. Non solo in un senso. La seriale non solo trasmette, ma li riceve pure. Quindi si possono mandare dei comandi in input. Su un secondo filo, quindi, ci sono quelli che dal computer dove siete voi vanno trasmessi al dispositivo. La velocità può essere trasmessa in bit al secondo o in baud. Il baud è il carattere, non è sinonimo di bit. La trasmissione è semplice, in chiaro, su un cavo collegato su una porta specifica del dispositivo. Non serve cartografarlo perché tanto è un punto punto. La cosa molto interessante della connessione seriale è che vengono trasmessi tutti gli stream di caratteri di tutto quello che passa per il dispositivo, anche prima dell'avvio del sistema operativo. La porta seriale, anche se non è connesso a nessuno, è normalmente lo standard output per tutto quello che il sistema sta facendo in ogni momento della sua vita, dall'accensione fino a quando non viene spento. Viene tutto buttato lì. Se ci sei, te lo leggi. Se non ci sei, te lo sei perso. Un po' come come avviene su un monitor, ma senza averne uno per ogni macchina. Quando c'è un dispositivo che ha delle difficoltà, per esempio non carica il sistema operativo, ci si collega in seriale e si vede tutto quello che succede prima del relativo boot. Se la rete di un sistema non funziona e quindi non ci si arriva in ssh, ci si collega in seriale, si fa accesso al sistema operativo, si arriva alla shell e si può tentare di mettere a posto. Se un dispositivo di rete non è raggiungibile in alcun modo, ci si collega in seriale, si vede che cosa c'è che non va e si possono fare le configurazioni necessarie per sistemarlo. Basta essere lì davanti, avere il cavo giusto e un software che faccia da terminale. La porta seriale o console, nella sua semplicità, è di una potenza mostruosa. Ha un limite, devi essere lì davanti. Certe volte è facile, certe volte un po' meno. Esistono dei sistemi che permettono di accedere alla seriale in modalità remota. Quando lavoravo nel posto prima dell'attuale, avevo scoperto per caso un oggettino che da una parte aveva una connessione seriale e dall'altra era un host wifi. Si collegava alla rete wifi dell'azienda e permetteva di accedere via seriale a dispositivi di rete anche se in posti fisicamente lontani. Non me ne avevano passati perché costosi. Andare lontano sui due piedi in giro costava evidentemente molto meno. Ho poi scoperto in un secondo tempo che esistono dispositivi che si collegano in rete da una parte e dall'altra hanno decine di porte seriali per collegare tutti i dispositivi presenti nelle vicinanze. Cercate console server su internet e vi si apre un mondo. Avere accesso seriale ai dispositivi anche da remoto cambia in modo drammatico la gestione degli stessi semplificandola. Se lavorate in una azienda e avete dispositivi con le porte seriali fate in modo di raggiungerli tutti anche se pensate che adesso li raggiungete via telnet o ssh. Se avete un problema poi dovete andare fino dove sono. Se avete accesso remoto alla seriale potete risolvere in un decimo del tempo. Pare strano. La cosa vale anche per un banale raspberry. Avere accesso seriale con l'adattatore che si mette sui suoi pin del GPIO vi evita di dover collegare mouse, tastiera, monitor. Un cavetto fatto finito. Sarà una vecchia connessione ma vi assicuro che è ancora di un'utilità e una potenza inimmaginabili. Per contesto nel tempo la seriale pareva essere lenta per trasmettere tanti dati ma poi dopo aver usato un bus di dati paralleli come LEPT per le stampanti o i bus ISA e PCI è tutto tornato a essere seriale. Viaggia a velocità stratosferiche e la usiamo costantemente. I dischi connessi in SATA viaggiano su un bus seriale. Tutto quello che è collegato in PCI Express è collegato su un bus seriale. La trasmissione dati è una branca della tecnologia davvero molto interessante. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb-tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'IT trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Questo podcast, da sempre, si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice perché anche voi fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Ivan, Carlo e Valerio. Le donazioni spot arrivano da Silvano, Gianluigi e Roberto. Il value for value è stato usato da Nicola a Gabriele, Giacal e Paolo. Una menzione speciale e la busta con i gadget vanno anche a Giovanni che sta lavorando costantemente a sistemare il bot che nel gruppo telegram converte tutti i link Amazon in automatico con il tag del podcast. Grazie, grazie, grazie. Vi ricordo che se non compilate il form per ricevere i gadget non posso spedirveli. Quindi se avete donato ultimamente più di 5 euro compilatelo. In più se per tutto il 2023 avete donato 5 euro al mese o più, avete diritto alla spillina retroattiva da sostenitore. Andate sul form e compilatelo. Grazie anche per questo. In questa settimana ho spedito parecchie buste con vari gadget. Adesso è tutto al buon cuore delle poste. Potrebbero volerci due giorni come 222. Oltre a donare usando Satispay, Paypal, All Value for Value potete anche usare i links sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o Aweb. Quest'ultimo ve lo ricordo sempre io lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati sono veramente sempre felici. E non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Come detto in puntata usare la seriale è un ottimo sistema per fare debug di sistemi che hanno qualche problema per i quali magari è difficile collegare un monitor esterno. Vi lascio nelle note dell'episodio un articolo molto interessante su come fare questa cosa su un Raspberry Pi tra cavetto e configurazioni. Fate il test, abilitatelo e provatelo su uno o più Raspberry che avete a casa che prima o poi vi torna utile. Lo so che in quanto ascoltatori del podcast ne avete almeno uno. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Non saltate subito al prossimo podcast che ci sono informazioni che possono tornarvi utili. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose che vi ho detto sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata disponibile su Feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. A occhio questa è l'ultima o la penultima puntata che ascoltate su Google Podcast. Avete fatto la migrazione altrove? Mi raccomando passate ad altre app. Ce ne sono di interessanti sia su Android che su iPhone. È anche un ottimo modo per fare pulizia dei podcast che non ascoltate da tempo, che occupano solo spazio sul telefono. Installate la nuova app, vi registrate ai podcast che volete davvero ascoltare e scaricate l'ultima puntata. Tutto pulito e una nuova vita da ascoltatore. Nelle note vi lascio qualche app da testare per entrambe le piattaforme di smartphone. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!